Giovanni Giannassi, sindaco di Sesto Fiorentino, di ritorno da Algeri, dove ha partecipato come rappresentante di tutti i comuni italiani gemellati con la Repubblica Seraui a questa conferenza internazionale sul popolo seraui. Una bella esperienza, la possibilità di conoscere e incontrare altri colleghi, soprattutto europei e africani, che ormai da decenni, come Sesto Fiorentino, hanno sposato una causa politicamente fortissima, con un impegno maggiore. Guarda soprattutto due punti, che sono il rispetto dei diritti umani, che anche nella recente proroga della missione dell'ONU sono tenuti sotto tono, mentre invece il Regno del Marocco sta perseguitando di fatto l'opposizione saharaui, soprattutto nei territori occupati, e la battaglia che sta avvenendo nel Parlamento europeo per impedire il furto delle risorse economiche del Sahara occidentale venduto dai marocchini alle grandi compagnie internazionali.